Come si fa a costruire un brand? Un bel modo per costruire brand è fare promesse e mantenerle Quindi il mindset di oggi che apparentemente può essere fin troppo semplice cioè fare promesse e mantenerle è un buon modo per costruire brand, grazie ma in realtà se andiamo un po' più in profondità ci deve dare veramente l'occasione anche di riflettere sul fatto che la fiducia non la si costruisce solo a colpi di sorrisi, pacche sulle spalle ed essere sempre positivi e altro ma si costruisce attraverso veramente la promessa ma soprattutto il mantenere veramente fede a quella promessa quindi partiamo da questa cosa abbiamo i nostri prodotti, abbiamo i nostri servizi, facciamo una promessa di valore ai nostri potenziali clienti quando i clienti ci comprano mi raccomando rimaniamo all'altezza delle promesse fatte non un gradino in meno pensiamoci Ciao, buona giornata e spingere sull'acceleratore e andare Ciao, sei il numero 1 Ciao, ciao 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 Grazie per la visione!